Iscriversi al Centro per l'Impiego Torinese di Via Bologna senza doversi mettere in coda. Grazie all'applicazione gratuita Curami, presentata a Palazzo Cisterna, sede della città metropolitana di Torino, i disoccupati in possesso di smartphone usufruiranno di una nuova modalità per contattare il Centro per l'Impiego di Torino Nord. Sarà possibile staccare il numero per la fila direttamente dal cellulare, sapere in tempo reale quante persone ci sono davanti a sé e avere una stima del tempo di attesa. Non si tratta di una corsia preferenziale, l'unica esistente è quella per le donne incinte con bambini piccoli che si presentano fisicamente al Centro per l'Impiego, ma di una nuova modalità di gestire l'ordine di arrivo che consente di ottimizzare i tempi di attesa. I numeri continuano a essere progressivamente messi dall'elimina code per tutti e il flusso rimane uno solo. L'applicazione Curami permette anche di staccare un numero per l'iscrizione delle persone con disabilità. Questa app consente di poter effettuare una coda virtuale, cioè consente ai cittadini che in questo caso debbono accedere ai servizi del Centro per l'Impiego e gestite la città metropolitana, di poter dare moto, potersi collegare, ottenere un numero di accesso e quindi poter recarsi poi nella struttura per le pratiche che devono essere svolte solo nel momento in cui viene richiesta la possibilità di accedere. Quindi evitare di fare delle lunghe code fisiche, di recarsi presso gli uffici ovviamente molto prima, ma consente di poter gestire tutto questo ottimizzando il proprio tempo e quindi rendendo la possibilità di accesso al servizio molto più funzionale, riducendo le code che soprattutto in alcuni contesti, quello di Torino in primo luogo, sono decisamente importanti. Ovviamente questo è uno degli strumenti che cerchiamo di mettere in campo per facilitare l'accesso ai cittadini ai servizi, per regolarne l'afflusso e per rendere quindi un servizio migliore ai cittadini e consentire a chi opera nelle strutture di lavorare in modo più costruttivo e più sereno. Quello di poter effettuare queste code di natura virtuale è sicuramente uno strumento moderno, va nella direzione in cui oggi ci si muove, cioè aumentare le possibilità di servire ai cittadini servizi che siano anche supportati agli strumenti che oggi la tecnologia ci offre e ci mette a disposizione.